Ciao a tutti ragazzi, siamo qui tornati dopo due settimane di nulla facenza 10 giorni, no oggi che giorno è? Oggi 17, abbiamo caricato il 4 Ah io pensavo che fosse il 13, vabbè, comunque stiamo giocando a The Shackling Che hanno anche tagliato la G come potete ben vedere, guarda non è neanche fatto così male il menu Sì ma no questa non è l'intro, poi guarda Tiff Press, hanno tagliato anche la T e stiamo giocando a widescreen a 1360 Ecco questa è l'introduzione, guarda quante fighe, stiamo a vedere Io all'inizio pensavo che non andasse il gioco Oh, quanto è bella Cioè si copre persino dentro Proprio curata Guarda, guarda la mano, guarda, guarda, ma cos'è? Un bastone, un bastone con una flashlight, ma è bella Andiamo, una mano a robotica Ok no, ci sono Oddio, oh my god, c'è Shrek Poi il vecchio la flashlight fa proprio la luce perfetta, no? Sì sì, guarda Si, si, guarda Si, si, guarda Si, illumina anche la mano Vabbè, vaffaco, non va più vecchio Ti ho già pagato il gioco Vabbè, dobbiamo andare Ora il gioco ovviamente parla di Shrek e delle cipolle Perché Shrek è una cipolla Ma... Tipo... Tu, o più Ma... Tipo... Non lo so sinceramente Questo è stato un urlato Ah, noi trapassiamo le porte So che se non si accende più la faccia Nessun cazzo Lei è accesa troppe volte Ah, sì, si, si, hai già rotto la lampadina Ma non è che serve Ah, no, non ho fatto Vabbè, no Ma sei già rotto, no, Dio Ci sono delle pile Posso prendere le più Dio, oh, che salto Ah, ma è una mano Ah, pink up battery Ah, così devo stare Ah Cioè, devo stare lontano un chilometro per prendere una piove Oppure devo stare... Tutte le volte che scendi Cioè, che accendi la... Ah, pink up, pink up Tutte le volte che accendi e spegni la torcia Tu consumi una... Vabbè, sì Fantastico No, che succede Oh, merda Make it High down Ok Cos'è? Cos'è? Oh, c'è... È tipo Call of Duty Che è successo con queste cose Che Call of Duty Oh, merda Cos'è? Oddio Ma talmente brutto il quadro Che si è suicidato Ma cosa? Ma c'è? Ma c'è? No, no Oddio 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 Che cazzo è stato? Oddio Ma fa paura sto gioco Merda Oddio Oddio Ma che verrà Questo è Shake his love, Shake his life Dopo che si è cannato Esatto Oddio Eh, questo è quando quando urla Fa il mega urlo C'è un po' paura Se ce l'ha Ma fa No, dai Che succede Quasi lo che si muove Ok Occhio OOOH OOOH Ma che cazzo Ma che cazzo Ma è Skrillex Che cazzo è? Oddio Ma cos'è? Oddio Ma cos'è? Ma che vai più un tornado Un tornado di cera Ma dove si esce? Mi viene un attacco evidentico Ed andà Sshhsshh Che bravo Come cazzo si esce? Oddio Cos'è? Oddio Ma cosa che ti devo fare? Cioè è tutto qua il gioco? Come siamo bloccati Questa Non ci dovevi entrare Oddio Oddio Ma che gioco è? Ma dai Ma cazzo si esce No Bene Bene siamo tornati Abbiamo ricominciato il gioco Perché era Allora era qua Giusto la stanza apocalittica No Non è tempo Non ho più Un timpano Oddio Ma cos'è? No cazzo Bisogna per forza entrare con la stanza Se non vi è partito l'impianto stereo del computer Avete un ottimo impianto stereo Prova aspetta Prova a andare sulla soglia Poi tornare indietro No cazzo No cazzo Corri vecchio vai 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 Siamo usciti dalla mappa Siamo riusciti a far bagare il gioco Va che fai il giro della stanza Bellissimo Però non vedo Cos'è? Ma ti rivelo io Aspetta un attimo Oddio Scappo ultimo No sei rientrato nella mappa No torna fuori No 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 Sì 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 Ma non da qua da lì Ma che cazzo Si ciò qua Ma che c'è No ci vediamo come si andava avanti Era finito qua No 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 Ma che cazzo fai Perché sei rientrato? Non è tanto Ma scopri No ma voglio provare a fare il giro della mappa Da fuori Cioè? Fare il giro della mappa da fuori Tipo così Ma va Ma dove cazzo bisogna andare? Perché vai finito il gioco Finito? È finito No perché ho buttato giù da lì Suicidio assistito Che bello Vai vai I video giochi Da da Vada 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 Da da Cioè come devi mentire Possiamo fare la fine Visto che c'è il cosa C'è L'atmosfera finale Possiamo fare la fine Possiamo concludere il video Che gioco di bello Che gioco di bello Stai ancora il commento Guarda Grazie mille Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Ciao Abbiamo scoperto che si può nascondere sotto il tavolo Grazie Grazie